Ciao a tutti, lui mi ha appena lasciato. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere 4 casuali, la carta 1, la carta 2, la carta 3 e la carta 4. Allora, pensa a questo lui che ti ha appena lasciato e il quale vuoi sapere cosa capiterà nei prossimi giorni. Questo appara anche il video per far ripartire, dopodiché sceglio la carta 1, la carta 2, la carta 3 o la carta 4. Perché scelto la carta 1? Ma diciamo che nei prossimi giorni avrai giustizia, quindi è possibile che in qualche modo, insomma, si faccia sentire. Che scelto la carta 2? Eh, non è detto che riprenda la situazione, anzi è molto molto probabile che ci sarà un po' di tergiversare, ma è una situazione complessa. Che scelto la carta 3? Beh, nei prossimi giorni accadrà che tornerà pentito e ci sarà un riavvicinamento più solido, che scelto la carta 4. E nei prossimi giorni si manifesterà il vero motivo per cui ti ha lasciato, cioè una donna antagonista, molto solida emotivamente. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco, iscriviti al canale, iscriviti al nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!